E già era un ultimo juez a tommo un decisione, caso sommario di sindicato Unione Portuario Arruba, questa UPA, che ha entramato un caso contro ASTAC. Abogado Atwin Deinevelde defende interesse del sindicato Aki, mentre abogado Moura Brona defende ASTAC. Corte ha rechazato e demando del sindicato di un caso Aki. UPA e ASTAC llegano a un accordo per un contratto colectivo di trabolo per il periodo di anno 2002-2004 del meso un accordo Aki a acordar con il C.O. lo rinnova automatticamente per un anno più, in caso che non arriva a un accordo nuovo. Come tal, ASTAC ha decidito che colovere il aumento di salario e bonus di fin di anno per il 2015. E' stato che il sindicato e i su miembro non apprezzano e optano per andare a un'evolta. Corte non è un accordo che UPA ha lograto convenzere che non ha avuto la insuficienza di prueba per dimostrare che ASTAC non sta cumplendo la regla di Riva UAF. Il juez ha decidito che non ha avuto la sentenza con nessun cammino del protocollo di parare il asunto di aver bucchino finanziario per il sindicato, poi la demanda Aki tampocco non ha basato nella opinione del corte. Nel final il juez ha decidito rechazato la demanda del sindicato e non ha avuto il pagamento di caso di ASTAC valore la 1.500 florini e tamo è un'evolta che non ha risultato di nada.